Frato Ianni ha votato? No, non lo vedo. Luigi Gallo. Onorevole Frato Ianni non è riuscito? È riuscito. Fao Tilli. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 4.5 esisto. C'è il parere contrario della Commissione del Governo. Prego. Presidente, anche qui solleciterei il relatore ad un chiarimento. Se la norma già fosse stata assunta nel rispetto del diritto della privacy, cioè se questa raccolta di dati avviene già rispettando quelle che sono le regole, la parola privacy, grazie a Dio, è stata recepita nel nostro sistema, quindi non posso essere accusato di alcuna anglofilia. E se già, ripeto, in queste modalità e compreso rispetto al diritto alla privacy, io sarei ben disponibile a ritirare questo emendamento, come ritiro invece già il 4.6. Il relatore, prego. Sì, è solo per ribadire che ovviamente sono dati sensibili e quindi sono soggetti alla privacy, quindi confermo quello che diceva il collega Sisto. A questo punto deduciamo che... Prego. Con questo chiarimento ritiro l'emendamento, grazie. Quindi sono ritirati e il 4.5 e il 4.6, giusto? E a questo punto poniamo in votazione l'articolo 4, se non vi sono interventi, la votazione è aperta. Abbiamo votato tutti. Pili. Lombardi. Lombardi. E dichiaro chiusa la votazione. La Camera... Lombardi. Lombardi. LimApp. E, lombardi.